L'osteoporosi è considerata una patologia al femminile, una patologia della donna. Anche se questo non è vero, in realtà sono più le donne che gli uomini affetti da osteoporosi. Nel nostro paese i numeri sono circa 3 milioni di donne, un terzo delle donne dopo la menopausa e un milione e mezzo di uomini. Quindi stiamo parlando di circa 5 milioni di cittadini italiani che sono affetti da osteoporosi. La prevalenza nel sesso femminile è dovuta al fatto che nella donna c'è il momento della menopausa che coincide con una caduta dei livelli di estrogeni molto acuta. Gli estrogeni sono degli ormoni molto buoni per l'osso perché tendono a inibirne la distruzione. Nel momento in cui mancano è come se mancasse un freno inibitorio e l'osso comincia a essere riassorbito molto più attivamente e lo perdiamo. Perdendo massa ossea noi diventiamo più fragili e quindi l'osteoporosi, che è una condizione di rischio, ci mette a rischio però di ammalarsi della malattia dell'osso porosi che è la frattura da fragilità. Quindi ci frattureremo o per traumi minori o senza traumi e questo è un problema molto importante nel nostro paese anche perché al di là dei costi per la persona, che sono i costi morali di essere ammalati di fratture, ci sono dei costi sociali, dei costi numerici di denaro che il nostro paese spende ogni anno sulle fratture. Parlando soltanto delle fratture di femore noi spendiamo una cifra altissima in fratture da fragilità di femore perché soltanto i costi diretti delle fratture di femore sono, considerando 100.000 nuove fratture ogni anno, una cifra che si avvicina al bilione di euro. Quindi tanti denaro che noi spendiamo per una frattura soltanto. Poi ci sono tutte le fratture da fragilità della colonna vertebrale, quelle dell'avambraccio e il nostro paese complessivamente quindi ha una spesa di costi diretti e indiretti che negli anni futuri con l'aumento del numero degli anziani e quindi delle fratture non riusciremo più a fronteggiare. Quindi noi siamo in una situazione in cui dobbiamo sicuramente pensare al futuro e pensare che questi costi, i diretti che paga il Servizio Sanitario Nazionale e gli indiretti che pagano il cittadino devono essere in qualche maniera arginati. L'unica maniera per arginare è fare prevenzione. Se dovessimo fare prevenzione per l'osteoporosi basterebbero dei numeri come questi. Se noi riuscissimo per le ragazze in età post-adolescenziale a raggiungere il picco di massa ossea aumentando del 10% la quantità potremmo dimezzare le fratture dopo la menopausa. Questo parla da solo. Quindi più interventi vanno fatti sicuramente nel bambino e nell'età adolescenziale di grande successo della campagna per la prevenzione della malattia dentaria che fu fatta negli anni 50 e successivamente nelle decennie a seguire ha portato oggi a giovani che moriranno con la loro dentatura. La stessa cosa per un alto tessuto calcificato che è l'osso deve essere fatto e dobbiamo cominciare molto presto. Quindi una grande attenzione senz'altro a chi già soffre di fratture e fragilità perché chiaramente sono persone per cui noi dobbiamo mettere in atto tutti i nostri sistemi di prevenzione perché un fratturato ha ancora più rischio di rifratturarsi ma tantissimo dobbiamo fare in età più precoci. Quelle su cui oggi c'è pochissimo investimento perché chiaramente i risultati di interventi come questi non si vedranno nei due o tre anni di una legislatura o cinque anni di una legislatura o di un governo ma si vedranno nelle decadi successive e questo spesso per il mondo politico non è l'area migliore in cui uno vuole investire. Quanto incidono una buona alimentazione e l'attività fisica? La prevenzione che noi chiamiamo primaria che è proprio quella dello stile di vita quindi introdurre le quantità raccomandate di calcio avere quantità giuste di vitamina D l'ormone che ci fa assorbire il calcio a livello intestinale e muoversi praticamente ogni giorno cercando almeno di camminare se non di fare attività fisiche più dedicate riescono almeno a farci raggiungere nell'età post-adolescenziale il nostro picco genetico di massa ossa cioè quello che noi abbiamo ereditato dai nostri genitori. Successivamente queste attività possono permetterci di mantenere nell'età adulta la nostra massa ossea acquisita. Nel periodo post-menopausale noi cominceremo a perdere anche mantenendo queste attività ma se non le mantenessimo perderemo ancora di più. Quindi in realtà tutta la vita noi dobbiamo fare attività fisica e dobbiamo cercare di introdurre le quantità raccomandate di calcio e avere giusti livelli di vitamina D perché in assenza di queste misure che sono misure proprio di tipo ecologico che dobbiamo seguire noi non solo perderemo come poi l'età detta o certe condizioni per esempio l'uso di certi farmaci purtroppo ci costringono a dover subire ma perderemo ancora di più perché non facciamo quella che è proprio chiamata prevenzione primaria. Secondo lei le donne sono informate di tutto questo? Ma c'è un'informazione spesso oggi a questo convegno si è parlato di informazione molto spesso l'informazione non dico che sia sbagliata ma è posta in maniera sbagliata in realtà la gente per fare delle cose giuste ha bisogno di esempi semplici non si può immaginare oggi che noi mettiamo una persona a prevenire l'ostoporosi quando diventa complicatissimo calcolare quanto calcio devo introdurre con la dieta tutti i giorni quale attività fisica devo fare quindi noi dovremmo dare delle ricette molto semplici che permettono a tutti di adattarle poi alla propria vita dai propri costumi quindi l'informazione c'è ma molto spesso è un'informazione che è molto complicata da troppi numeri noi dovremmo creare dei messaggi semplici che a volte sono stati utilizzati devo dire sfortunatamente più dal mondo privato che magari vende un prodotto e che cerca di promuovere quello e non da quello che dovrebbe essere il mondo istituzionale che di questo dovrebbe farsi veramente portavoce perché poi stiamo parlando della salute dei cittadini italiani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti